allora oggi ospite molto gradito massimiliano bruno qui a hot corn ciao massimiliano come stai sto molto bene andrea ho avuto il colpo della strega ma sto benissimo senti ma perché massimiliano bruno perché finalmente possiamo definire l'abbiamo definito il film maledetto il film che non volevano farmi farvi vedere possiamo mettere questo come quote massimiliano sì l'apocalypse now di massimiliano bruno una saga infinita un anno e mezzo di attesa stiamo parlando di ritorno al crimine che doveva uscire un attimo un attimo dopo che scoppiò il primo lockdown coronavirus poi doveva essere il film invece di ritorno in sala che poi ritorno invece non c'è stato e adesso finalmente il 12 luglio arriva su sky e finalmente possiamo vederlo ma che effetto ti ha fatto tutto questo massimiliano come l'hai vissuta beh eravamo un po in ansia perché la verità vera è che è che noi ci accingevamo a girare il terzo film il terzo capitolo quindi più si andava avanti col tempo e più avevamo un problema di avere due film il secondo e il terzo di una saga che non potevano uscire nella stessa stagione e quindi a un certo punto dopo più di un anno che il lockdown e il covid ci ha tenuto lontani dalle sale la produzione abbiamo insomma dovuto prendere una decisione se uscire con tutti e due film in ritardo cioè uscire con un film adesso e uno fra un anno che però nel frattempo io avevo girato già da un anno e mezzo oppure se utilizzare una piattaforma prestigiosa come quella di sky per lanciare il secondo film e fare da ponte al terzo quindi e fare da ponte al terzo che può così uscire nella prossima stagione e quindi vicino a quando l'ho girato io l'ho girato in primavera fino al mese di maggio quindi finché potrà uscire già quest'inverno certo e uscirà in sala quindi il terzo lo vedremo uscirà in sala in sala senti allora prima domanda visto che tu sei un grande amante della cultura pop io dico quanto ti sei divertito però a infilare citazione su citazione insomma da narco cioè ce ne messe dentro tanto di più beh è stato molto divertente io mi sono preso questa pausa diciamo per fare questi tre film di intrattenimento per divertirmi molto ed è stato veramente divertente poi giocare con gli anni 80 io sono nato nel 1970 per me gli anni 80 sono guarda e guarda la perché la è l'età della mia adolescenza il primo bacio non è un caso che il primo film che ho scritto notte prima degli esami insomma che ricalcava un po' la mia adolescenza è ambientata nell'89 e quindi niente abbiamo rimpolpato questo secondo film in particolare secondo me c'è stata la buonissima idea aiutati da san internet abbiamo scoperto che è il ciapo il come si chiama il paolo escobar era venuto in vacanza a napoli proprio in quegli anni ma in vacanza non a fare scambi di droga piuttosto che cose legate al mondo dell'elenquenza semplicemente in vacanza perché era uno infissa per napoli allora abbiamo perché scusa anche i boss vanno in vacanza possiamo dirlo è certo insomma tutto il lavoro che fanno durante tutto l'anno e beh pagando se l'ha ricavato della cocaina dell'eroina ma ci vanno e quindi niente ci sta questo incontro fra gianmarco donnazzi e paolo escobar con gianmarco donnazzi che provenendo provenendo dal futuro conosce le serie televisive su paolo escobar e quindi la prima cosa gli dice io ho visto tutto il film e le serie e quello non sa di che sta parlando chiaramente inoltre poi tante citazioni musicali tanto anche divertimento nello nel differenziare i due tipi di camorra a napoli quella degli anni 80 come dire vista nei film di mario merola per renderci col boss un po cattivo un po vestito male un po stereotipato esatto se sento esatto da noi interpretato magistralmente da gianfranco gallo con dei sottoposti straordinari che sono angelo orlando che è veramente grandissimo e dario tacconelli e poi differenziarli da invece i quelli che noi chiamiamo i gommorristi cioè sono i nuovi gommorristi che sono questi giovani con con doppio taglio di capelli tripli tatuaggi e con uno slang napoletano assolutamente incomprensibile a differenza di quello degli anni 80 che invece era ancora classicheggiante era un napoletano comprensibile e quindi in un paio di momenti del film c'è marco giallini che si chiede proprio ma che cazzo ha detto questo non capisco perché effettivamente abbiamo fatti parlare come in gommorra senti quanto ti sei affezionato questi personaggi invece tu di solito sei un regista che ama molto i suoi personaggi non li costruisce da sempre insomma almeno io ho sempre notato che tu costruisci il personaggio e poi lo segui lo curi no anche più piccolo beh io sono personaggi che ho amato tantissimo nei miei film a volte anche non non principali se penso al rocco papaleo fascista di nessuno mi può giudicare che in uno sfogo dice te lo meriti nanni moretti citando contro citando nanni moretti che diceva ve lo meritato alberto su esatto se penso alla foglietta escort è un personaggio amato tantissimo la paola cortellesi degli ultimi saranno ultimi operaia messa alla porta grande colpevole soltanto di essere incinta che è che purtroppo quel film più passa il tempo e più invece che invecchiare rimane moderno che per te è un complimento per il tema no per il tema no come giustamente dici tu perché comunque si fa si fa ancora tanta tanta fatica sui diritti civili delle donne mi sembra che tutto intorno si parli dei diritti di qualsiasi cosa tranne che di quelli delle donne e ci rimettiamo anche noi anche noi noi uomini che abbiamo sempre più difficoltà a stabilire un contatto perché una cosa è camminare insieme una cosa scontrarsi quindi è quel film è quanto mai attuale da questo punto di vista su invece ritorno al crimine e c'ho diversi personaggi a cui affezionarmi ma scelgo di affezionarmi ai cattivi perché secondo me abbiamo creato un paio di gommorristi straordinari uno è interpretato da marco esposito si chiama o mammon che è che è un bonaccione che alla fine invece decide di prendere in mano le redini della 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 cosca camorrista e l'altro è van gogh che si chiama così di soprannome proprio perché assomiglia al grande pittore interpretato da antonio cargiulo che il quale antonio cargiulo è anche presente nel cast vero di comorra quindi c'è il punto di contatto esatto c'ho diversi attori che sono nel cast vero c'è anche roberto oliveri insomma quindi ci siamo chiesti che come nel primo film abbiamo messo un po la berlina romanzo criminale e la roma della della banda della magliana nel secondo abbiamo detto andiamo a napoli e vediamo se riusciamo a prendere in giro pure gommorra e i camorristi mi sembra che il risultato sia più divertente addirittura nel secondo perché sì ho voluto spingermi un po di più sulla comicità e divertirmi un po di più esatto senti quest'anno sono anche i dieci anni dal tuo debutto alla regia perché era il 2011 quando hai iniziato il viaggio sì infatti ancora mi chiamano giovane regista nonostante 50 anni quando hai fatto io ho fatto il mio ottavo film adesso quindi esatto esatto ma quanto sei cambiato tu quanto è più facile su certe cose perché ovviamente il mestiere poi no uno ce l'ha in mano più lo fa però quanto è anche più difficile non ripetersi non fare le stesse cose fare anche scelte diverse guarda va di pari passo con l'età un uomo a 40 anni molto diverso da un uomo a 50 e maturando ai più diciamo dimestichezza con le scelte capisci meglio quando vuoi raccontare una commedia che per quanto divertente possa avere un risvolto sociale amaro e quando invece il mondo ti fa sospendere il giudizio perché cambia così rapidamente in maniera così incomprensibile che come è successo a me ho deciso per qualche anno di fare solo intrattenimento in qualche modo di non approfondire troppo perché non stavo capendo dove stava andando il nostro paese e in generale il mondo poi figurati dopo il covid adesso sono ancora più confuso io sono cambiato perché sento che prima avevo molte cose da dire e volevo e le mettevo nei miei film volevo raccontare della figura della donna volevo raccontare come stava politicamente il mio paese ad esempio ci sono stati degli anni in cui invece ho voluto divertirmi e basta come negli ultimi tre diciamo e sempre cercando di fare una commedia non banale intelligente sempre certo e cercando stavolta di fare una commissione di genere che non avevo mai fatto quindi l'action comedy no film action insieme alla commedia e devo dire che in questo senso l'incontro con Andrea Bassi Nicola Guaglianone e Menotti sul primo film è stato importante da questo punto di vista come dal punto di vista del divertimento e dello studio di un'altra tipologia di sceneggiatura è stato importante l'incontro con Alessandro Aronadio e con Renato Sannio che sono gli sceneggiatori del secondo e terzo capitolo di questa saga insomma incontrare artisti da sempre tanti stimoli ti fa venire voglia pure di andare ad assaggiare un piatto diverso ma chi è il tuo regista preferito cioè quello che se potessi adesso alzare il telefono e chiamarlo allora il mio regista preferito è morto però anche se è morto è uguale perché facciamo tipo fantasy per me è Ettore Scola Ettore Scola secondo me è quello che più di tutti in anni difficili è riuscito a dire cose difficili se penso a come ha trattato i tre partigiani dicevamo tanto amati un uomo di sinistra che poi racconta che in fondo quelli sono diventati tre merde crescendo anche se erano partigiani anche se la pensavano come lui racconta che persone che si sono salvate la vita da partigiani poi si fregano le donne si tradiscono addirittura cambiano idea politica e in qualche modo si deludono a vicenda a me quel film quando l'ho visto ero ragazzo ma proprio fatto comprendere cos'era veramente la Commedia dell'Italiana cioè parlare con apparente leggerezza di un dramma e non guardare in faccia nessuno poi perché la Commedia dell'Italiana questo Ettore ci ha ci ha insegnato ora l'altro giorno rivedevo una giornata particolare l'hanno fatto proprio su sky eh in occasione del del mont ride esatto eh cioè quel film è straordinario cioè ancora una volta ti fa vedere un personaggio femminile quello di sofia loren è attualissimo perché come era massacrata allora la donna non voluta dal marito eterosessuale e dal compagno occasionale omosessuale quindi una donna abbandonata in mezzo a un universo di uomini che portano avanti le proprie problematiche ignorando quella della donna e tra l'altro girato in quel decennio nel decennio degli anni settanta in cui la donna era al centro di una serie di esatto credo fosse il 77 ma tu queste cose le sei meglio di migliore ed è una tematica quella incredibile che adesso se facessi quel film avresti dei problemi sì sì direbbero che sei troppo scorretto e che non tuteli una parte piuttosto che un'altra insomma è tosta incredibile è vero è anche un grande film di scuola è la terrazza che rivedendo io l'ho visto pochi mesi fa è un film che ancora racconta tutte le miserie nostre proprio dei dei noi comportamenti meschini le furberie le cose tipiche dell'italiano grandissimo affittato meno citato poi a terrazza ma poi ci sono film che abbiamo visto che insomma io e te che amiamo questo lavoro ci sono certe volte che ti vengono in mente delle immagini di film italiani perché abbiamo fatto la storia del cinema ti ricordi ugo tognazzi poverino su sul divano di una festa e ricco mario sereno che gli dico fammi gli dice fammi vedere come fai il treno e lui che fa cos'è il magnifico cornuto no era era voglia matta forse no era era con stefane sandrelli io la conoscevo bene io la conoscevo bene io la conoscevo e tu vedi tognazzi che si umilia davanti a una platea di di borghesi e che è quella roba quell'umiliazione lì seppur comica è la commedia all'italiana e che feroce poi sempre feroce e lì allora vai in quel campo di di monicelli di risi di comencini di germi di elio petri dimenticato dimenticato da tutti anche antonio pietrangeli 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 e allora quella è una formazione per chi ha la mia età forte perché so quei film che io ho visto tra gli 8 e i 18 anni ma il tuo film preferito qual è il preferito di uno italiano c'eravamo nata mattina c'erano tanto amati è un film che ritorno beh che ritorna che bello perché c'è anche il teatro dentro è un film che cinematografico ma è teatrale con tantissime idee è un film che ha ispirato da da woody allen a quente di tarantino nel senso è c'è tutto c'è tutto è un film basti pensare quanto è educativo per ragazzi che studiano io ho una piccola scuola di recitazione a roma il laboratorio di arti sceniche quant'è quant'è formativo vedere la scena in cui loro vanno a teatro e a un certo punto in scena a sandrelli alti attori si si bloccano e fanno gli apparte goldoniani ma starà una roba modernissimo poi si moderni c'è il linguaggio cinematografico fantastico senti l'ultima domanda massimiliano è qual è adesso il futuro di massimiliano bruno adesso ritorno al crimine poi la trilogia si chiuderà in sala e poi e poi sto maturando diciamo me la voglia di rifare un film con uno spessore differente di andare dalle parti di degli ultimi saranno ultimi di visualità di fare una commedia diversa ci sto lavorando e per il momento purtroppo sto indietro di due film che devo uscire quindi diciamo che questa stagione la prossima sono già coperto utilizzo quest'anno per scrivere per poi c'è già una mezza sceneggiatura in mano non una sceneggiatura scritto un soggetto che sarà un film che sento l'esigenza di scrivere da solo perché racconta qualcosa che mi preme molto e insomma per fortuna lavoro in una società che mi ha lasciato sempre libero di fare di fare quello che voglio quindi spero e credo che l'aif mi appoggerà come sempre beh avevi la nostra curiosità adesso è la nostra attenzione per citare proprio tarantino quindi aspetteremo adesso ci mettiamo alla pari con ritorno al crimine 12 luglio il terzo fine trilogia e poi adesso c'è il curiosito però quindi beh però t'ho dato ho dato una possibilità e me la sono data anche io di poter ripartecipare a questa intervista magari fra un anno e mezzo esatto assolutamente e facciamo il facciamo il bilancio di quello che è successo intanto quest'anno sperando che poi vada tutto bene insomma ecco sì grazie mille massimiliano buono per stato con noi a presto buon viaggio per tutto grazie grazie a tutti